Gli alunni della Solito non rientreranno nel loro plesso almeno per quest'anno e inizieranno l'anno scolastico suddivisi tra tre istituti. Questa è la decisione definitiva dell'amministrazione comunale nonostante il tentativo in estremis del coordinamento dei genitori che ieri aveva organizzato un sopralluogo nell'istituto scolastico e ne è stato interessato da un crollo interno con una perizia svolta dal consulente tecnico di parte, l'ingegnere Renato Cassarà. Secondo il perito del coordinamento dei genitori si potrebbero utilizzare da subito 21 aule della Solito. A prima vista si vede perfettamente che i lavori di ripristino del Solito sono stati fatti bene a regola d'arte. La scuola è perfetta, pulita e a nostro avviso agibile parzialmente per 21 aule. Ciò detto, bisogna vedere fino a che punto l'amministrazione voglia iniziare i lavori di adeguamento sismico entro gennaio o possa iniziare questi lavori entro gennaio. Noi riteniamo che se ad oggi mancano i soldi per fare questi lavori, mancano i finanziamenti, difficilmente possono iniziare questi lavori non prima di maggio, fine maggio. Quindi, se c'è questa realistica possibilità, perché togliere 21 aule ai bambini, ripeto, chiaramente con le dovute certificazioni di messa in sicurezza e quant'altro, ma realisticamente si possono offrire 21 aule ai bambini e alle famiglie. Questa è una cosa che noi riteniamo inconcepibile. Secondo il comitato, tra l'altro, il consulente tecnico di parte è pronto anche a sottoscrivere una dichiarazione di fattibilità, assumendosi la responsabilità. L'amministrazione però non cambia idea, la Solito rimane inagibile, almeno per quest'anno. Noi continuiamo per quella che è la decisione che è stata presa la settimana scorsa, di suddividere l'istituto Enrico Solito, parte presso le Benedettine e poi presso Santa Maria di Gesù, presso il plesso Maria Antonietta Aldisio e l'Enrico Mattei. Continuiamo su questa soluzione perché non possiamo permetterci di perdere tempo. Ieri, durante il sopralluogo, naturalmente l'idea che viene data dal comitato, e dal tecnico incaricato, di fatto di puntellare quello che è tutta la copertura esterna, tutti i solai esterni e fare in modo di utilizzare le aule e gli ambienti al di sotto di quel piano, non sembra percorribile in nessun modo da parte del settore dei lavori pubblici. Per cui mi sembra anche inutile chiedere un parere ai genitori, alle famiglie su questa cosa. Io non manderei mai mio figlio in una scuola sapendo che il piano superiore è puntellato poiché sostiene la copertura esterna. L'amministrazione punta al progetto esecutivo di adeguamento sismico dell'immobile per poter poi riaprire il plesso in totale sicurezza. A noi interessa prima possibile fare un aggiornamento prezzi su quel computometrico e mandare immediatamente in gara i lavori di rifacimento dell'intero plesso dell'Enrico Solito. Con quali tempi? Allora, per quello che è l'aggiornamento dei prezzi si perderà qualche mesetto, ma siamo convinti di riuscire a mandare in gara il tutto prima naturalmente di gennaio del prossimo anno, quindi tra dicembre e gennaio. Non la pensano così invece i genitori preoccupati per il probabile dilatarsi dei tempi. A nostro avviso non è realista questa ipotesi, perché comunque intanto occorre trovare i finanziamenti per l'adeguamento sismico, uno. Numero due, occorre fare il bando di gara e sappiamo di tempi che per legge occorre lasciare ai partecipanti per il bando di gara e quindi la gara che peraltro è di imposto 3 milioni di euro, quindi una gara molto allettante per le varie imprese e quindi si prevede una larga partecipazione di imprese a questa gara eventuale. Ma altresì è prevedibile che ci siano dei ricorsi al TAR, anche la terza ultima, la terza classificata è quando posso fare dei ricorsi al TAR. Con il ricorso al TAR blocchi l'aggiudicazione, quindi impedisci che il cantiere possa partire. Quindi realisticamente è inconcepibile che si possa partire con i lavori febbraio-marzo, sicuramente si potrà partire eventualmente da giugno in poi, quindi a questo punto diamo queste 21 aule ai bambini, perché è veramente uno spreco, uno spreco.